Edgar Elisalde e Gaston Brugman restano al Pescara. Di nuovo in biancazzurro, Nando del Sole, Cristian Bunino torna alla Juventus e sul filo di lana sfuma il centravanti Gianluca Scamacca. E questo in sintesi l'epilogo dell'ultima giornata di mercato in chiave Pescara. Un venerdì davvero intenso e che vale la pena di ricostruire. Da ieri sera si è andato profilando un mega scambio con la Juventus. Edgar Elisalde, Cristian Bunino al club bianconero e Luca Clemenza e Nando del Sole al Pescara. La figura principale era proprio il difensore uruguayano classe 2000, Edgar Elisalde, che sarebbe andato al club bianconero in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Il Millennial, dopo attenta riflessione invece, ha deciso di restare in biancazzurro. Meglio continuare a crescere in una competitiva Serie B e in una stagione nella quale troverà più spazio rispetto allo scorso anno che finire sia la Juventus ma a giocare in Serie C con la seconda squadra. D'altro canto si è complicata la pista Luca Clemenza. Sul fantasista bianconero si è scatenato un duello rusticano tra il Padova, che si è inserito in giornata sull'ex Ascolano, ed il Palermo, che alla vigilia di Ferragosto aveva in mano l'accordo con lo stesso Clemenza. Alla fine a spuntarla è stato proprio il Padova. E allora lo scambio con la Juventus si è ridotto a due calciatori, Nando Del Sole in prestito al Pescara e Cristian Bunino alla Juventus. Per entrambi si tratta di un ritorno. Del Sole un anno fa aveva firmato con il club bianconero, dove si era poi trasferito lo scorso gennaio, finendo nella primavera, allenata da Dalcanto ma allenandosi sovente con la prima squadra. Bunino era arrivato a gennaio a Pescara dalla Juventus in cambio del cartellino di Mancuso ed ora finirà nella rosa della Juventus B. Se fosse partito a Elisalde, il Pescara si era cautelato bloccando il terzino sinistro Luca Germoni della Lazio. La partenza di un centravanti come Bunino ha permesso al DS Leone di riaprire il fronteggio a Luca Scamacca, il centravanti di proprietà del Sassuolo, protagonista anche con la nazionale Under-19. L'intesa con il procuratore del giocatore, Mino Raiola, è stata però trovata in extremis e la società non è riuscita in tempo utile, cioè al gong delle ore 20, a depositare il contratto. Una operazione minore è quella formalizzata con il Brescia per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante italiano, ma argentino di nascita, classe 95 Alexis Ferrante. Il giocatore Scuola Roma era finito, allora 18enne, nel 2013, nell'Aquila, in prima divisione, ma non trovò molto spazio. Con le rondinelle, 36 presenze e 5 gol in Serie B. Gli ultimi sei mesi, deludenti in Serie C, in prestito al Pisa, 11 presenze, 0 reti. Ferrante sarà tuttavia girato in prestito al Fano, sempre in Serie C. Nella giornata di oggi, poi, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha liquidato, in unica soluzione, l'IVA non pagata nel 2016 per un importo di circa 3 milioni e mezzo di euro. Un'azione che consentirà il dissequestro dei conti bancari della società e che chiude una vicenda fastidiosa, ma sulla quale il patrone Biancazzurro, nei giorni scorsi, aveva ostentato il massimo della tranquillità. Sul fronte del campo, domani mattina partitelle in famiglia per la squadra di Bepi Pilon e da lunedì scatterà la settimana tipo che porterà al debutto di sabato 25 sul campo della Cremonese. Anche se, sempre lunedì, l'asso calciatori potrebbe indire uno sciopero per protestare contro il format 19 squadre varato dalla Lega di Serie B, un atto che farebbe slittare l'inizio del campionato.